Era il primo ottobre del 1978 quando Piazza Saiacopo fu invasa da scatoloni di giornalini e giocattoli usati. Così nacque il mercatino dei ragazzi del Calcit, manifestazione che quest'anno taglia il traguardo delle 70 edizioni e che è stata presentata alla scuola primaria statale Pio Borri. Dopo la pandemia avevamo ovviamente smesso questa buona abitudine, adesso la riprendiamo e ha un significato ovviamente di sensibilizzare i ragazzi e di riprendere qualcosa che nei primi anni del Calcit c'era una grande adesione da parte delle scuole perciò poi un pochettino si è persa ma adesso cerchiamo piano piano di riprenderla perché in questa maniera pensiamo appunto di preparare quello che sarà nei mercatini del futuro che sono veramente animati dai ragazzi, infatti già in questa edizione ci sono diverse scuole che hanno aderito. 250, i banchi e 400, le bambine e i bambini che domenica 12 maggio saranno presenti nella zona Eden. L'obiettivo resta quello di raccogliere fondi per il servizio scudo, cura domiciliari e oncologiche. I nostri incassi vengono destinati esclusivamente alla sanità pubblica, in modo particolare al servizio scudo che è un stato ed è molto apprezzato da tutta la popolazione per l'uso e la sensibilità, non solo la professionalità di queste persone che lo frequentano. Come ogni anno a tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia ideata dai ragazzi della sezione Orafi del Margaritone, mentre gli studenti dell'istituto comprensivo Cesalpino si sono già messi all'opera per un altro grande evento Targhetto Calcit Magni e Cuore in calendario, domenica 26 maggio in Piazza Grande. I ragazzi stanno preparando tutte le buste dove verranno messe le coperte acquistate e onestamente non possiamo svelare ma sarà una bellissima edizione come la precedente e quest'anno ci sono anche grandi novità che adesso non possiamo venire, aspettiamo tutti in Piazza Grande.